Avete citato i lavoratori, ha parlato poco fa Maurizio Landini, il segretario della CGL, la sua posizione non è di preclusione al Green Pass, ma è a favore invece dei tamponi gratuiti. Infatti ribadisce, se per ragioni politiche oggi la decisione da assumere Green Pass obbligatorio invece di obbligo di vaccino, perché non avete le condizioni politiche al vostro interno, lui si rivolge al governo, di prendere questa decisione, non può neanche succedere che si scarichino sui lavoratori, decisioni che devono essere assunte sul piano politico.